vai. Hola flamingo, ciao fenicotteri. Oggi sono qui per annunciarvi che il canale Charlotte M si trasformerà in Greta and Tom. C'è qualcuno? Ciao Charlotte. Ciao Marisa. C'è Ilaria per casa dentro. Sì, la vedrai in camera sua. Ah ok. E' un po' triste dopo che è stata scelta la promessa con Tommaso col filo rosso. E' un po' triste. Ah ok. Allora vado in camera. Vai, vai. Prova a tirarla su. Vai, 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 grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Ilaria. Ciao. Ho saputo che sei molto triste perché hai rotto la promessa con Tommaso. Già. E a proposito di Tommaso. Allora, Ilaria, devi essere contenta se hai rotto la promessa con Tommaso, ok? Hai presente gli occhi neri che c'erano venuti per colpa delle promesse, ok? Sono andati via appena le hai rotti. Quindi appena rotti la promessa sono andate via tutte le macchie nere. Guarda. Davvero? Sì. Aspetta Charlotte, ma che tu sappia, a Tommaso piace Greta? Ah, no, non penso. E poi comunque non è colpa di Greta se è successo tutto questo casino, ok? E soprattutto, ti va di divertirti. Mi chiamo Tommaso e Leonardo li chiamiamo adesso e gli chiediamo se vogliono venire a casa mia a fare un bagno. E vieni anche tu. Almeno ti diverti, ok? Allora li chiamo. Eccoli qua. Vediamo. Alla fine, allora, hai tratto il braccialetto rosso? Eh, dopo quello che è successo l'ultima volta, cosa ti aspettavo che facessi? Scusa. Veramente scusami. Vabbè, forse non è colpa tua. Allora, ragazzi, vi va di giocare? Visto che dobbiamo festeggiare per gli occhi che adesso non ci abbiamo più neri, bisogna festeggiare in un modo molto divertente. Quindi siete pronti a giocare? Sì, sì, sì. Allora, vi va di giocare in piscina? Sì, mi sembra una buona idea. Ok. Fa anche caldo. Qua, ieri ho preparato anche delle penitenze dove dovremo farle se perderemo, ok? Va bene. Io voglio iniziare a tuttare. Anche io voglio iniziare. Allora, ci studiamo noi due? Va bene. Che vinca il migliore, allora? Ok. Ti dico per te, eh, Charlotte. Dai. Baila. Quindi allora dopo ci studiamo. Ok. Attenta se non cade in partenza. Baila. Come fai? Attenta, non cadere. No, 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 Charlotte. Ragazzi, ma io mi bagno i pantaloncini qua. Oddio. Atenta. Stai, stai. Ok. Allora, tre, eh. Pronte? Ok, siamo pronte? Uno. Due, tre. Vai, Laila. Vai, Laila. Vai, Laila. Vai, Laila. No, 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 vai, Laila. Pensavo di stare più veloce cadendo così. Dai, quindi io vincolo. Hai vinto, Laila? Adesso sta a me e a Tommaso. Laila ha vinto, brava. Torna di 10. È tutta colpa tua, Laila. No, è tutta colpa mia. Sì, è tutta colpa tua. Sei rascata. Ok, stiamo in due. Ah, sono mezza anch'io. Hai vinto. Ok, pronto? Io e te. Vai. Ok. Vai, te la tengo io. Tienile. Vai, forza, Leo. Adesso devi vincere per me, eh. Mi raccomando. Ok. Fai bravo. Allora, vediamo come funziona. Vai, Laila. Vai, Laila. Cadi, cadi. Laila. Laila. Ok. Ora lo so. Laila. Ok. Vai, ok. Pronti? 3, 2, 1. Via. Vai, Laila. Laila. Ho vinto, vinto. Ho vinto. Ho vinto. Bravo, Laila. Ho vinto. 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 No, mi hai bagliato tutta. Vieni. Vai. Pura, che io sto qua? Ci sono più felice. Pensavo fosse più facile. Aspettate, ora il problema è uscire. Eh sì, è un bello problema. Però adesso Tommaso deve fare la penitenza. E anche Charlotte. Io? Oddio, è vero. Bisogna fare noi due la penitenza. Pensavolo. Ok. Quindi andiamo. Cos'è? Io pesco per Tommaso. Ok. Grazie. Allora, quindi la penitenza è? Vediamo. Vai. Pesca, pesca, pesca. Questa. Ok. Perfetto. Leggi te Tommaso. Ok. Allora. I due perdenti devono stare in una stanza per 10 minuti. I due perdenti quindi siamo io e Tommaso. Non era pensato per me questa cosa. Eh. Va bene, va bene ragazzi, tanto facciamo così. 10 minuti. 10 minuti, ma poi esatto anche 5 minuti. Sì. È una penitenza. Andate allora. 5 minuti. Veloci. Ila tranquilla, mi raccomandola. Charlotte. Sì, Leo, stai tranquillo. Che te vuoi che fai? Speriamo bene, Ila. Vabbè, dai, non faranno niente. Io mi fido di Charlotte. Eh, anch'io spero bene. Andiamo dentro il bagno, ok? Sì. Ti devo dire una cosa. Ok, allora, non so perché te lo stia dicendo proprio a te, però facciamo che altrimenti lo diciamo insieme, va bene? Ok. Uno. Due. Tre. Mi sono innamorata di Leonardo. Cosa hai detto, scusa? Mi sono innamorata di te. Io ho detto che mi sono innamorata di Leonardo. Ok. Allora, facciamo che tu spendi i sentimenti di qualsiasi cosa tu stia provando adesso e così eviti di far male sia a te che a Ilaia, ok? Facciamo che non abbiamo mai detto niente in questo stagio, ok? Niente. Beh, ho deciso di far dura nemmeno la penitenza. Meglio direi, no? Sì, meglio. Sì, vedo che vi siete già cambiati. Sì. Eh, sì, eravamo bagnati. Mi sono messo i pantaloni. Aha. Ciao. Ecco. Ah, vi siete cambiati? Sì. Ci siamo cambiati. Allora, io vado a cambiare. Sì, vado anch'io. Ilaria, vieni con me. Ok. Devo accompagnarti? No, guarda, mi metto una maglia e basta. Tommy, c'è una persona. Ma deve arrivare qualcuno? No, in teoria no. Andiamo a vedere chi è. No. Margherita. Ciao. Ciao, Margherita. Come stai? Lo sento bene. Oh, attenta, attenta, attenta. È Margherita. Com'è? Portiamola dentro. Charlotte, venite, veloci. Sì, arriviamo, ci siamo cambiati. Cosa ci fa Greta esattamente qui? Non lo so, è arrivata già. È svenuta poi. Dove la posso portare? Sì, vai in camera, forza, porta la via. Veloci. Non ci posso credere di nuovo lei qua. Io non so se lo stia facendo apposta, ma veramente io non ho parole, non ho parole. Veloci, sul letto, sul letto. Ok, sì, sì, sì. Attento, attento. Ok, scelta. Qua, un cuscino. Ok. Oh, prendiamoli la forza. Cosa gli è successo esattamente? Qui? Si sta svegliando. Greta. Greta. Ragazzi, ragazzo, che non sto con lui. Va bene. Andiamo. Chiudi la forza. Va bene, è veloce. Dovresti spiegarglielo. Passami il telefono un secondo. Sì, ok. Grazie. Senti, so che puoi rubare il canale a Charlotte, anche te. No, in realtà non mi interessa bene. Dai, è vero. Ma... Chiudi la porta. Non stai male, quindi? No, è una scusa. Ok. Ma quando ci mettono? Non lo so, cosa staranno facendo, secondo te? Non lo so. Ragazzi, dieci minuti e arriviamo, va bene? Come no. Sì, sì. Dai, chiudi. Che vuol dire? Ma se proviamo ad andare a origliare, che dite? Andiamo. 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 Ok. Sì, andiamo. Sì, andiamo. Qui siete? Hanno chiuso a chiave. Non ci vedo. Hanno chiuso a chiave. No, non c'è niente. No, non c'è niente. Chi è? Chi è? Chi è? Sirena. Dopo ti spiego. Non fare domande. Che risponde devo fare con questo io? Qualcuno mi spiega cosa sta succedendo? Chiudi le finestre, tanto. Mi spiegate che sta succedendo, per favore. Riprendimi. Questo video dovrà andare su tutte le piattaforme social. Veloce. Ok, ok. Ah, ci sono anche funzionali. Però, perfetto. Ok. Vai. Hola, Flamingo. Ciao, Felicotteri. Oggi sono qui per annunciarvi che il canale Charlotte M si trasformerà in Greta and Tom. Ciao, Felicotteri.